Una chivassa addobbata festa ha accolto il campione del mondo della MotoGP Francesco Pecco Bagnaia per i festeggiamenti organizzati in suo onore da Fast Club e dal Comune. Ad aprire il festeggiamento nella mattinata di domenica 18 dicembre una conferenza stampa dedicata ai media alla quale hanno preso parte Pecco, il giornalista Antonio Boselli, il presidente del Fans Club Luca Cena e il sindaco Claudio Castello che ha espresso parole di soddisfazione ed orgoglio. Siamo davvero fieri di avere un campione del mondo originario di Tivasso. Un bagnaio autentico e semplice quello che si è presentato ai giornalisti. Io ringrazio molto la Rinsidia per tutto l'insieme di cose che sono state fatte per poter avvicinare Tivasso e Tivasissia all'impresa che stanno qui dove stanno. Perché secondo me il mega schermo organizzato per l'ultima gara di Valencia tramite il Falkland e il Sun ha portato qualcosa di bellissimo. Sinceramente così tante persone non me ne sarei mai immaginata e soprattutto sono stati fortunati che la giornata era anche bella quindi si poteva godere proprio tutti insieme. perché è stato molto bello e sì, io sono molto fiero e orgoglio di più perché siamo sempre fatta per una città dove non c'è. Cioè, in passato c'è stato molto, c'è un turismo grazie anche alla famiglia Borghi quindi è un po' più storico, però anche da anni mancava. Diciamo che Tivasso e Sio siete stati a passare anche molto, perché sicuramente fino a quando sono ragazzi più interessanti, ragazzi più molto, con le destre, con le molte lacrosse nelle strade e quindi secondo me portare questo in più questo e tutto questo è molto bello. Grazie per questo evento realizzato. Grazie a tutti.